Un saluto dalla redazione del Gireasi in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Dobbiamo lasciare dietro le spalle questo clima da guerra fredda. Non c'è bisogno dello scontro. La situazione è cambiata. Bisogna affrontare le sfide comuni. Il terrorismo sempre in crescita, il crimine internazionale, per non parlare dei problemi economici e ambientali. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa con l'omologo americano Donald Trump. Dobbiamo normalizzare i rapporti, ha aggiunto il capo del Cremlino. I negoziati con Trump hanno avuto luogo in un'atmosfera franca e amichevole. È stato un round di colloqui davvero proficuo, ha affermato. Le nostre relazioni non erano mai state peggiori di quanto non lo siano adesso. Tuttavia ora sono cambiate perché quattro ore fa ci siamo incontrati, ha affermato il capo della Casa Bianca. Veniamo in Italia. Un uomo si è dato fuoco a Milano e ora è ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda. Feriti anche due poliziotti intervenuti nel tentativo di bloccarlo. Sono rimasti leggermente ustionati e sono stati portati anche loro in quell'ospedale del capoluogo Lombardo. A dare l'allarme era stato un passante dopo aver visto il ragazzo cospargersi di liquido infiammabile. Chiusura in negativo per Piazza Affari, l'indice Fuzzimib della Borsa di Milano ha concluso le contrattazioni odierne in calo dello 0,32% a 21.882 punti. E per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi. Grazie a tutti.